Mercato in uscita bloccato, di conseguenza tutto fermo. Galano, Rizzo, Marilungo e Bocic sul piede di partenza, probabilmente anche De Marchi. Non ci sono novità. Come anticipato, Murano, Collo dell'ingaggiato dalla Lucchese e Simeri non sono stati mai trattati. Un conto è che possano piacere, altra storia, tentare di prenderli. Non ci sono stati mai contatti rispettivamente con Perugia, Cremonese e Bari. Prima bisognerà procedere alle uscite. Gli obiettivi, un esterno d'attacco mancino, sicuramente una punta con caratteristiche diverse da quelle di Ferrari, ovvero più tecnica e incline ad attaccare la profondità. Ma vale davvero la pena creare la competizione con un giocatore, appunto Ferrari, che finora ha segnato 8 gol, trovando per inciso la maglia da titolare solo alla nona giornata. La domanda c'è tutta, staremo naturalmente a vedere. Il pallone intanto riprenderà a rotolare. Dopo un mese di stop, la matricola Montevarchi all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Toscani alle prese con quattro casi di Covid. Biancazzurri privi degli squalificati Pompetti e Igianes. Scontato il debutto di Carlo Derisio. Al suo fianco uno tra Memuschai, Favorito e Giambo. In difesa assai probabile il ritorno tra i titolari di Ingrosso, Drudi e Veroli a completare il reparto. Sulle fasce Cancellotti in vantaggio su Zappella a sinistra, Auteri potrebbe rilanciare Inzita. Davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. Molto attivo sul mercato il Teramo, che ha ceduto Birligea a titolo definitivo al Clugi, capolista del massimo campionato rumeno per il classe 2000, contratto di tre anni e mezzo. Scadenza giugno 2025. Il club biancorosso conserva il 40% sulla rivendita futura. In entrata già ufficializzati il centrocappista Forgione dal Fiuggi, dal Piacenza alla Mezzala De Grazia, un ritorno all'esperto difensore centrale Roberto Codromatz, il laterale Mancino Mordini dalla Fermana e l'attaccante Filippo D'Andrea, ex Seregno e Foggia, in prestito dalla Salernitana. Oltre a Birligea, già ratificate le uscite di Chiare Matenga alla Fermana, Rillo al Piacenza, Piacentini al Modena, il baby Jacopo Surricchio, classe 2006, in prestito con diritto di riscatto alla Roma e l'attaccante di Dio, arrivato in estate in prestito dalla Bologna, al Picerno, club del Girone C. Ora il DS Sandro Federico si concentrerà sugli esterni d'attacco, ne arriverà sicuramente uno. E sabato prossimo, la prima del 2022, in casa del Vis Pesaro.